ai criticoni. Ti do una risposta estremamente onesta però articolata. Allora, secondo me qui il tema non è se mandi in onda questo oppure no, il tema è perché viene fatto questo e Fanpage lo fa sempre in una direzione, perché viene fatto puntando a un partito che in quel momento può andare al governo è una domanda retorica. Lo so, la loro posizione politica, quando prendono una cantonata, nel senso che poi l'impianto viene smontato, quindi la lobby nera non esiste è giusto dire che la lobby nera non c'è. Cancellato. Non c'è e poi, scusami, certo che lo mandi in onda, è ovvio che lo mandi in onda, ti interessa, l'hanno visto tutti, se ne è parlato si fa televisione per farla si fa televisione per farla guardare io ho qualche dubbio sulla figura ma potremmo discutere nel settore. Della gente provocatore, diciamo così. Se uno, e lo dico onestamente, viene da te o da me e comincia a parlarmi di lavatrici giustamente, io mi sospettisco mi domando lo stesso modo per cui mi sospettisco per le lavatrici perché, per esempio, non vanno a vedere se si concentrano su un particolare fidanza, questo e quell'altro non vanno a vedere i finanziamenti secondo me molto più interessanti giornalisticamente, molto più ghiotti perché un'università dà dei sogli a questo. Cancellato. Due cose. La prima, ed è una replica a quello che ha detto Borgonovo il nostro giornalista undercover, infiltrato non era un agente provocatore nel senso, lui non è lui che parla di lavatrici ma è Ionghi Lavarini non è lui che parla di Black ma è Carlo Fidanza in un incontro noi semplicemente ascoltiamo Si finge un'altra persona quello che ci dice si finge un'altra persona ma fino a quel momento la gente provocatore è quello che dice se vuoi ti do dei soldi questo non avviene durante tutta l'inchiesta è Carlo Fidanza che propone il finanziamento di alcuni eventi elettorali in nero quindi facciamo due distingue importanti normalmente ti qualifichi quale giornalista però ci sono state fior di inchieste fatte undercover nel mondo c'è un filone poi può piacere o meno però non facciamo la storia del giornalismo stiamo sul punto l'infiltrazione della destra neofascista dentro i partiti della destra istituzionale noi siamo passivi rispetto alla richiesta di finanziare degli eventi elettorali e finanziarli eventualmente in nero siamo passivi tant'è che ad esempio tutta l'altra parte la seconda puntata quella che riguarda Sardone e Bastoni tutta questa parte non c'è raccontiamo ad esempio dei militanti di realtà e azione ecco allora fermiamoci un attimo perché c'è una seconda cosa a cosa serve un'inchiesta giornalistica secondo noi a mostrare dei comportamenti dei linguaggi delle modalità dei rapporti discutibili che magari non sono reati sicuramente non le sono ma che possono mettere in guardia agli elettori ciò che abbiamo davanti Francesco possiamo dire adesso velocissimo possiamo concludere che la lobby nera non c'era la lobby nera scusami e mi perdono ma la lobby nera è un gruppo di non è che stava la lobby nera è un gruppo di fascisti neofascisti e nostalgici che si danno una mano per il chiave elettorale scusami la lobby nera a vedere questo sono Ionghi Lavarini e la signora Panciuliz che va a ritirare la valigia tant'è che si vede si vede scusa si vede quello che abbiamo visto che hanno visto anche i magistrati se non c'è altro e non c'è altro perché lo si andiamo avanti la lobby nera cos'è la lobby nera? la lobby nera sono i movimenti sono gli estremisti di destra sono i militanti neofascisti quindi anche le altazioni anche quelli di cui parla Ionghi Lavarini che non ha rapporti con Ionghi Lavarini tant'è che Ionghi Lavarini non va quando voi andate alla si c'è Ionghi Lavarini si ferma lì si ferma lì non va a parlare con loro non ha rapporti con loro cioè voi avete montato una cosa liberissimi di fare con chi scusiamo di fare con bastoni con Borghezio con bastoni e Borghezio sono una cosa sono la Lega tu hai parlato di estremisti neofascisti che detto così non vuol dire assolutamente nulla allora ci sono Ionghi Lavarini e la signora che fanno una cosa e fanno alcune scene come il ritiro della valigetta in cui fidanza non c'è sì ma qui c'è fidanza con Ionghi Lavarini e la valcettina scusate li vediamo un attimo e questo è il tema dei comportamenti scusate che noi abbiamo denunciato guardate che esistono delle scorie della gente al bar che fa delle cose discutibili ma sono tutti insieme però sono tutti insieme si prendono per mano aspetta però qui c'è qui c'è